dopo l'alving di bitcoin ci sarà una super impennata dei prezzi quindi conviene comprare bitcoin e aspettare semplicemente per diventare finalmente ricco bene ragazzi ciao a tutti bentornati in questo nuovo video alving fatto di bitcoin è stato emozionante per me non ve lo nascondo guardare la riduzione del blocco e a vederlo dimezzarsi proprio in live ragazzi nella giornata di lunedì è stato emozionante insomma una cosa estremamente simpatica ma oggi parliamo di questo argomento di questa cosa che vi ho detto perché mi è arrivata una mail da un mio follower e fabio insomma lo ringrazio per questo suo messaggio volevo rispondere pubblicamente a questa domanda perché perché semplicemente ragazzi è la domanda che in questo momento si stanno facendo veramente tanti investitori nel settore criptovalute e voglio dire la mia voglio dare il mio contributo per spiegarvi perché ragionare in questo modo ragazzi non va bene relativamente agli investimenti anche se io la penso magari come voi lo vedremo tra un po però non va bene ragionare in questo modo perché nel ambito degli investimenti dobbiamo fare attenzione ad alcune cose oggi in questo video andremo a capire perché non si può ragionare nell'aspettativa di un'impennata dei prezzi e perché quando progettate un investimento dovete tenere presente alcuni fattori ragazzi fattori stra importanti che vi dirò oggi ma prima di andare a vedere i grafici e di fare tutto questo punto della situazione tutto queste queste cose rispondere anche al nostro follower fabio e vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ragazzi e lasciatemi un super pollice in su per capire se vi piacciono questi contenuti e soprattutto poi mi aiutate ragazzi con l'algoritmo di youtube ma bando alle ciance andiamo subito a vedere queste risposte oggi sono pimpante ragazzi oggi sono pimpante allora perché non si può ragionare dicendo compra un prezzo perché dopo l'albing ci sarà un'impennata dei prezzi intanto ragazzi nei mercati finanziari esiste un principio il primo poi ce ne sono tanti allora esiste un principio che dovete sempre ricordarvi soprattutto se siete neofiti appena arrivati nei settori qualsiasi sia il settore finanziario qualsiasi sia il settore dove volete investire i mercati sono aleatori aleatori ragazzi significa che nessuno può sapere dove vanno non c'è modo di farlo e non è questo il compito degli analisti tecnici come me ragazzi e non è il compito di fare previsioni futuristiche come mago zurly su quello che è il futuro dei mercati perciò secondo principio che sono collegati ragazzi sono proprio collegatissimi quando qualcuno vi dice che domani i mercati esplodono salgono vi fate i miliardi non lo dovete ascoltare mai ragazzi perché vuol dire che non sa quello che sta dicendo semplicemente non è che vuole il vostro male sicuramente non è così semplicemente non sa quello che sta dicendo perché probabilmente ne sa meno di voi sui mercati oppure semplicemente perché ha iniziato qualche mese fa e ancora è in quella fase di rodaggio il rodaggio del trader quando ancora si cerca di prevedere il futuro ragazzi quando ancora non si capisce che fare investimento finanziario significa applicare delle strategie e insomma ragazzi allora quando voi ascoltate qualcuno che vi dice domani i prezzi faranno un più 1000% ok sono fandonie volevo dire stronzate ok abbiamo parlato della aleatorietà dei mercati e del perché non dovete assolutamente prendere una posizione e fare un investimento sui mercati finanziari sulla base di queste aspettative però ragazzi potete fare invece un investimento potete anche decidere di agire sui mercati e prendere la vostra posizione in base a un'idea di quello che può succedere e quindi dire dopo l'alving di bitcoin ho visto una serie di analisi una serie di grafici che ci indicano che potrebbe esserci un rialzo del mercato nel prossimo futuro quindi io sempre tenendo conto che i mercati finanziari sono aleatori come vi ho detto prima provo a investire su questo mercato acquistando facendo il mio acquisto ma consapevole del fatto che posso anche perdere perché non è detto che anche se negli ultimi due alving il mercato è salito in questo caso continuerà a farlo e a tal proposito mi sposto sui grafici a farvi rivedere il mio grafico quello che ho fatto nella scorsa settimana proprio per spiegarvi che anche io stesso ho fatto un grafico che parla ragazzi di questa cosa ma non cambia l'operazione non cambia l'operatività dell'investitore che deve sempre badare a un altro fattore fondamentale ragazzi dopo l'aleatorietà i mercati sono rischiosi ve lo dovete stampare in testa ragazzi perciò dovete ridurre la vostra esposizione sugli investimenti in base a quella che è la vostra capacità di accettare il rischio perché i mercati ragazzi sono rischiosi bitcoin un mese fa ragazzi stava a 3.500 dollari avete capito ve lo ridico 3.500 dollari se da questi prezzi ritorna a 3.500 dollari lo sapete cosa cambia nel mercato è un crash un disastro niente non cambia niente ragazzi per il lungo periodo non cambierebbe nulla e quindi dovete poi sopportare un meno 80 per cento meno 60 per cento di perdita ragazzi ok quindi ricordatevi quando fate un investimento guardate sempre il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto aleatori rischio va bene ho parlato troppo e soprattutto lo so che non piacciono queste cose quindi cerco di essere adesso pro rialzo facendo vedere questo grafico che ho fatto io stesso allora ragazzi nella mia previsione che è ovviamente come sapete ormai spero avete imparato a conoscermi aleatoria è chiaramente semplicemente una previsione io farò e seguirò il mercato giorno per giorno con le mie strategie di trading certamente non mi metto lì a sperare che arrivo a quei livelli lo sapete benissimo ragazzi però c'è nel modello dell'albing questo target price cioè che va da più o meno 50 80 mila dollari per bitcoin fra circa due anni allora questo è possibile sì ragazze no se io dovessi dirvi se è possibile questo rialzo io vi dico sì certo è possibile ma non è una certezza cosa potrebbe anche succedere ragazzi potrebbe succedere per esempio che bitcoin decida di fare un po di trading range qui magari riscendere intorno ai 4.000 3.000 ritornare a fare in questo modo e poi man mano magari ci va a fare un break così perché no una super bull run magari all'inizio del 2022 per arrivare al nostro target nulla vieta al mercato di avere un atteggiamento del genere che potrebbe essere estremamente rialzista attenzione ragazzi questo sarebbe un atteggiamento estremamente rialzista di bitcoin ma come vedete in questi in questa prima fase potrebbe addirittura tranquillamente ritornare intorno ai 4.500 dollari cosa che ovviamente sapete non spero per nessuno ragazzi ma questo è per spiegarvi come non dovete mai basare il vostro investimento sull'aspettativa di lungo periodo immaginaria ragazzi perché il lungo periodo è lontano si dico una cosa scontata ma è lontano ragazzi lungo periodo dovete capire che dovete stare in mezzo al mare per tutti quegli anni cosa fate poi se le cose vanno storte lo sapete se non lo sapete lo dovete sapere questo è un giochino progettate la vostra strategia se le cose vanno storte perché se le cose vanno bene siamo tutti felici e contenti quindi cosa ci cambia niente ragazzi perciò quando andate a fare un investimento se siete nuovi 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 nel settore andate a fare questa cosa ricordatevi queste cose semplicissime 1 i mercati sono aleatori ha detto mauro 2 devo badare al rischio cosa sto rischiando perché potrebbe scendere ancora ama io la tengo nel lungo periodo poi la rivendo ho capito ragazzi ma se scende lo comprate a prezzi più bassi quindi ok iniziamo accumulare ci può stare usate delle strategie ci può stare ma ricordatevi sempre di ragionare con la vostra testa intanto non ascoltate mai il fruttivendolo l'edicolante il barbiere il parrucchiere che vi ha detto che ieri ha comprato insomma queste cose nella bolla di internet ragazzi c'era il parrucchiere che vi diceva di comprare tiscali perché era sentito da quello dell'ortofrutta che era che era diciamo l'azione del futuro poi è fallita va bene ragazzi scherzi a parte fate i compiti voi studiate voi e anche se ascoltare gli altri è sempre giusto ricordatevi questi principi e non sbaglierete mai i principi sono aleatorietà i mercati sono aleatori rischio i mercati sono rischiosi terza cosa se sto nel mercato per lungo periodo devo accettare le oscillazioni del mercato questo potrebbe portarmi ad una fase di perdita anche notevole sul mio capitale perciò lo devo considerare ragazzi anche se le cose poi vanno bene come vi ho fatto vedere su questo grafico per una fase magari di un anno potrebbe essere anche che voi dovete sopportare un meno 50 siete in grado se non siete in grado vuol dire che avete investito troppo that's it tutto qui ragazzi ricordatevi queste regole per il vostro benessere intanto mentale soprattutto nel trading è perché ragazzi perché investire vi deve fare guadagnare soldi non dovete guardare questa mercato come un qualcosa che poi vi arrecherà problemi moltissimi sono stati così moltissimi hanno abbandonato gli investimenti e il trading perché sono stati consigliati male perché non hanno capito queste tre regole sono le tre regole più importanti per un investitore alle prime armi aleatorietà i mercati sono aleatori rischio badate sempre al rischio 3 qual è lo scenario peggiore per voi se capita lo scenario peggiore come state lo accettate cosa fate ragazzi che ci vuole a ragionare su queste cose dieci minuti vi salvano da due anni di pene e molti di voi che stanno avendo questo video lo sanno perciò se volete dare anche voi un contributo a tutti i nuovi che si sono aggiunti su questo settore scrivete la vostra esperienza nei commenti aiutate anche qualcun altro a non fare questi errori bene ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video io vi ringrazio come sempre ciao a tutti al ving rock and roll al ving superstar ciao